Verso 42. Quelli che, con i loro atti irresponsabili, rompono la tradizione della stirpe, provocano l'abbandono di quei principi, grazie ai quali la prosperità e l'armonia regnano in seno alla famiglia e alla nazione. Legazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I principi che nel Varnashrama Dharma, detto anche Sanatana Dharma, regolano la famiglia e la società, hanno lo scopo di permettere agli uomini di raggiungere la salvezza ultima. Quando capi di Stato irresponsabili rompono queste tradizioni, la confusione che ne deriva fa dimenticare alla società che il fine di ogni esistenza è Vishnu, Krishna. Coloro che seguono questi dirigenti ciechi finiranno certamente nel caos.